Ovviamente sono stati sollevati molti temi nel corso del dibattito di oggi e provo a replicare su alcune questioni puntuali. Spero di coprire almeno gli interventi che mi hanno colpito di più, ma certamente mi scuso in anticipo se non dovessi rispondere ad alcune domande. C'era un punto sull'ambiente e sul concetto di sviluppo sostenibile. Questo è alla base della giustizia tra generazioni che so il Senato sta discutendo nella forma di progetti di legge costituzionale per inserire il concetto nella Costituzione. Questo governo conferma l'impegno di andare in questa direzione. Secondo punto sull'ambiente, a proposito dell'impatto ambientale, c'è una legge del 2015 che prevede che ci sia una valutazione ex ante ed ex post delle politiche sul capitale naturale. Il governo conferma il suo impegno su questo punto, che d'altronde è in sintonia con le linee guida del PNRR e in accordo con le tematiche del semestre europeo.